12 donne che hanno lasciato il segno nella storia di Taranto e della sua provincia, 12 volti per il calendario 2022 delle pari opportunità. L'iniziativa lanciata da Sabrina Pontrelli, presidente uscente della Commissione della Consulta Provinciale per le Pari Opportunità, è stata realizzata grazie al lavoro sinergico tra le consigliere dei 29 comuni della provincia ionica che compongono la consulta, la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità e la consigliera di parità, Avvocato Gina Lupo. La presentazione avvenuta nella Salone degli Stemmi ha ospitato anche i familiari di alcune delle protagoniste. I 12 mesi sono dedicati a Teresa Straziota, Marisa Ghionna, Lucia Bongermino, Rosa Maria Teruggi, Rossana Di Bello, Maria Luccarella, Maria Quaranta, Domenica Terrusi, Anna Clelia De Vito, Elena D'Antoglietta, Anna Fugè e Giulia Licomati. Volevamo in qualche modo dare lustro al nostro territorio, al territorio della provincia di Taranto, andando a ricercare delle personalità femminili che in un passato recente o comunque in un passato remoto hanno dato lustro ai nostri territori. 12 donne e 12 protagoniste, ognuna che si distinta in ambiti diversi. Noi per il comune di Martina abbiamo scelto Gioconda De Vito, una violinista nata nel 1907, che ha portato la musica e quindi anche la cittadinanza martinese e quindi tarantina al di là dell'oceano.